Anticipazioni Beautiful. Giovedì, 4 marzo 2021. Alla Forrester Creations, la discussione tra Steffi e Hope, continua senza sosta. La CEO, chiede alla sorellastra, come può pensare di preparare una sfilata, in poco tempo, senza stilista. La Logan le lancia una sfida. Ne troverà uno al più presto, e lascerà tutti a bocca aperta. Nel pomeriggio, Liam raggiunge Steffi, intenzionato a trovare con lei, una valida soluzione, alle continue ossessioni di Thomas. La Forrester, lo ferma subito. Non può schierarsi contro suo fratello. Lo Spencer, capisce che la sta mettendo in difficoltà con la sua richiesta, ma Thomas, l'ha usata tranquillamente per i suoi scopi. Pertanto, occorre fermarlo, prima che sia troppo tardi. Brooke, è sola in casa, con i documenti del divorzio in mano. Hope entra, e la abbraccia. Le due, parlano di Thomas. Per Brooke, Thomas non va perdonato, in quanto non è affatto cambiato. Ridge, pretende questo, e lei non può accettarlo. Se solo insieme, riuscissero a dimostrare che ha ancora delle brutte ossessioni, il Forrester, probabilmente, tornerebbe a casa da lei, e quei maledetti documenti, finirebbero nella pattumiera.